Arriverà dal 3 febbraio su Netflix Santa Clarita Diet, la nuova surreale sitcom con Drew Barrymore e Timothy Oliphant. Dalle prime informazioni diffuse da Netflix, Santa Clarita sarà una comedy basata su un fatto folle, il ritorno della madre di famiglia Sheila dalla morte affamata di carne umana. Questo non la trasformerà però in uno zombie o in un demonio, ma la renderà più brillante, attraente e sicura di sé. La famiglia cercherà di restarle accanto, ma non è semplice come sembra. Il marito Joel, i figli e anche i vicini di casa finiscono per scoprire le sue bizzarre abitudini alimentari che sfociano, almeno così sembra, nell'omicidio. Sull'account YouTube di Netflix è apparsa da qualche giorno una nuova clip che spiega meglio l'avventura della famiglia Hammond, anche grazie agli interventi di Drew Barrymore, Timothy Oliphant e di Victor Frisco, ideatore della serie. Dalla clip si evince che Sheila Hammond, dopo essere diventata una mangiatrice di carne umana, è in realtà una donna diversa. Sexy, sfrontata, appassionata e di nuovo innamorata di suo marito, al quale da viva sembrava legarla all'abitudine piuttosto che l'amore. La morte e il ritorno sono dunque una sorta di catarsi per questa donna e per questa coppia, nonostante Sheila sembra l'unica a giovarne. La sua famiglia, marito in testa, è sull'orlo di una crisi di nervi. C'è tanto sangue in questa commedia, ma anche tanto divertimento e romanticismo. Come voi, noi siamo curiosissimi di vederla su Netflix dal 3 febbraio.